La Santa Vergine ad Anguera Qualcosa di abominevole sta arrivando Qualcosa di abominevole sta arrivando nella nostra vita quotidiana e questo Anche se non si legge nelle parole della Santa Vergine donate al Veggente Pedro Regis Comunque si comprende questo dalla frase Babele crescerà Ma arriverà il momento della grande caduta Con queste parole la Santissima Vergine ci fa comprendere che stiamo per giungere in un momento difficilissimo per l'umanità In cui probabilmente una guerra devastante sta per scoppiare Ma questo grande male che arriverà sarà presto annientato dall'opera del Signore Dio Onnipotente Parole allarmanti ma che donano anche fiducia Leggiamo il messaggio Cari figli Il mio Gesù attende la vostra coraggiosa testimonianza Annunciate a tutti le verità del Vangelo Perché solo così l'umanità troverà la via della salvezza Non scoraggiatevi per le difficoltà e le prove Babele crescerà Ma arriverà il momento della grande caduta La verità di Dio prevarà nel cuore dei giusti Vi chiedo di continuare sul cammino che vi ho indicato Non dimenticate La vostra vittoria è nell'Eucaristia Qualunque cosa accada Rimanete fedeli a Gesù e non allontanatevi dalla sua vera Chiesa Andate avanti senza paura Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Andate in pace Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta